Tutto entro il 25 di maggio, tutto dopo il 25 di maggio, abbiamo questo voto di scambio che fa lo Stato, un voto di scambio, gli 80 euro, cambiano le parole, cambiano le parole alle leggi, 80 euro, 80 euro è un voto di scambio, 80 euro è da vergognarsi, da vergognarsi, diminuiscono l'IRPF e poi aumentano le tasse regionali e comunali, tolgono le province e non è vero, e voi fate dei titoli e abolite le province, non è assolutamente vero, lo sapete bellissimo.